11 novembre, Don Giorgio De Capitani, 81 anni, sacerdote dell'Ebrianza Lecchese, è stato condannato dal giudice di Lecco, Nora Lisa Passoni, per aver diffamato il leader della Lega, Matteo Salvini La vicenda risale al 2015. Quando il sacerdote pubblicò sul suo blog e sui social post ritenuti diffamatori nei confronti di Matteo Salvini che lo querelò Lo scorso 23 ottobre Salvini, assistito dall'avvocatessa Chiara Ecker, si era presentato in tribunale a Lecco e aveva risposto alle domande del PM Paolo Del Grosso e degli avvocati Emiliano Tamborini e Marco Rigamonti, legali del sacerdote Oggi nuova udienza in cui è stato sentito il test e chiave, Luca Morisi, responsabile della comunicazione del leader della Lega, e la deposizione di Don dei Capitani Il PM ha chiesto la condanna a una penna pecuniaria di 10.000 euro, mentre la difesa ha invocato la soluzione perché il fatto non costituisce reato Il giudice ha condannato il sacerdote al pagamento di 7 500 euro, oltre al risarcimento del danno per 7.000 Allora Grazie Grazie a tutti.